Insegnare ai ragazzi la cultura del rispetto dell'ambiente e dell'uso responsabile delle risorse. È con questi presupposti che è nata la campagna Centra la differenza di ASM Pavia, che nel corso di questo anno scolastico ha proposto laboratori e lezioni nelle classi degli istituti primari e secondari del capoluogo e dei comuni limitrofi. Il focus per le primarie è stato il processo del riciclo e del recupero dei materiali, mentre per le secondarie di primo grado il tema principale affrontato durante le lezioni è stato l'inquinamento da plastica. Al progetto hanno partecipato anche i ragazzi degli istituti superiori del capoluogo, che sono stati i protagonisti delle giornate Pugliamo Pavia e hanno contribuito alla pulizia di diverse aree della città. Al Castello Visconteo si è svolta la giornata finale, con l'esposizione degli elaborati realizzati dai ragazzi, che rimarranno in mostra nel loggiato del piano superiore da mercoledì 8 a domenica 12 giugno. Quello che vediamo è la dimostrazione di un successo che deve tanto per cominciare trovare da parte nostra i ringraziamenti verso il corpo docente, verso il gruppo che ci ha assistito nel coordinamento e nell'organizzazione di questa iniziativa. È un'iniziativa nella quale SM, il Comune di Pavia, crede moltissimo perché è un'iniziativa educativa. Abbiamo lo scopo di portare all'interno dei nuclei familiari i concetti essenziali della corretta attività di gestione dei rifiuti. I bambini sono il veicolo che riteniamo essere assolutamente il migliore. Confidiamo in loro e ci attendiamo dei risultati negli anni a venire, sono il futuro.